Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio livellarti il significato del idiom of the week che ho selezionato per te questa settimana The idiom of the week of today is at one's mother knee To learn something at one's mother knee means that you learn something when you wear a child L'espressione idiomatica quindi at one's mother knee è un'espressione che viene utilizzata per indicare qualcosa che si è imparato quando si era piccoli Esempio, I learned to sew at my mother's knee Ho imparato a cucire quando ero molto piccola Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo idiom of the week E nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi possa essere utile conoscere questo idiom A presto! Grazie